Ma consideravo importante esserci in questa conferenza stampa perché penso che il lavoro che abbiamo portato oggi al Consiglio dei Ministri, penso che le norme che abbiamo licenziato oggi al Consiglio dei Ministri siano delle norme molto importanti. Su alcune materie in passato diciamo lo Stato ha preferito occuparsi di altro, ha dato il segnale che su alcune questioni era meglio non entrare che in qualche maniera erano talmente complesse da risolvere che metterci la faccia avrebbe potuto essere pericoloso e io penso che questo di oggi sia invece un segno di uno Stato che decide di mettere la faccia anche su materie che sono molto complesse, anche su questioni che sono sicuramente complesse, difficili da risolvere.